Questo è un momento importante per la città di Crotone, sindaco, io veramente le faccio tutte le congratulazioni, veramente di cuore, è stata una battaglia dura, io sono stata qui 11 mesi, Crotone da Calabrese lo dico, Crotone merita tutto il bene possibile. E' il grande giorno, da oggi Vincenzo Loce, sindaco di Crotone, è ufficiale? E' ufficiale, oggi c'è stata la proclamazione, io in realtà sono al lavoro già da ieri, la prima cosa che ho fatto è che sono tornato a scuola, ho salutato i miei alunni e subito dopo ho al lavoro, quindi stiamo lavorando per mettere su una bella squadra, una squadra che sia all'altezza per risolvere i problemi della città di Crotone, che sono tanti. Quali emozioni nell'indossare questa fascia? Emozioni tantissime, poi sento tutto il peso dei cittadini che mi hanno votato, un risultato netto, questo l'ho già detto, tanta responsabilità, c'è tanta attesa e spero di non deluderli, lavorerò H24, io sono al servizio di tutti i cittadini, per cui disponibilissimo ad affrontare tutti i problemi e cercheremo di risolverli. Quali sono le caratteristiche di coloro che lo aiuteranno nel dare la svolta a questa città? Vabbè, competenza, competenza in ogni ruolo che si andrà a ricoprire, questo sarà il criterio principale. Ripeto, stiamo perdendo un po' di tempo apparentemente, ma l'individuazione della squadra non è facile. Io da un punto di vista sono anche facilitato perché non ho cambiali politiche da ricambiare, non ho nomi che mi vengono imposti, per cui insieme ai consiglieri, insieme ai collaboratori decideremo il meglio per la città. Ha già deciso quale sarà la prima azione che metterà in campo? Vedremo, ma bisogna partire dalle partecipate, qui bisogna vedere com'è la situazione, cosa bisogna fare nell'immediato perché il problema rifiuti è sotto gli occhi di tutti. Tutti mi chiedono la stessa cosa, pulizia e rifiuti, pulizia e decoro urbano, per cui si deve partire necessariamente da lì. Poi andiamo a vedere la situazione dei cantieri, questi grossi progetti che sono stati già finanziati e che devono essere cantierizzati. Il modo per creare lavoro nell'immediato è questo, per cui poi vedremo con la visione da dare alla città, con la programmazione da fare, vediamo, dai, ma c'è da lavorare, questo è fondamentale. Molti giovani auspicano di trovare spazio in questa città, di tornare nella propria città. Torneranno se ci saranno le condizioni per tornare, un sindaco non crea posti di lavoro, un sindaco crea le condizioni affinché questi poi ci siano. E mi auguro che a breve ci sia questa svolta, ma ripeto, si parte dalla trasformazione della città, questa avviene se la macchina amministrativa funziona. Nei giorni scorsi ho fatto un esempio, immaginate una macchina, questa macchina attualmente è fusa, è ferma, immaginiamo una macchina ferma da decine d'anni, è impensabile che oggi pomeriggio venga un nuovo sindaco e la metta in moto. Ci vuole un po' di tempo, non tanto, perché i cittadini aspettano i risultati subito e li vedranno.